indovinati un po siamo tornati io sono papi siamo sempre 0 96 e oggi come sempre come quasi tutti i giorni faremo un nuovo video su minecraft sempre cosa stiamo costruendo e voglio vedere se lo capisci sembra una croce non è una croce dobbiamo fare la comunione no vediamo comincio a costruire vediamo se riesco a capire no è un altro gioco horror gioco no quello dobbiamo costruire un bosco come slenderman allora comincio a costruire non mi dare indizi e vediamo se riesco a indovinare che cosa può essere facile così come sto non mi dice poco niente 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 ora vediamo quando mettiamo le varie cose cominci a costruire vediamo se capisco è una casa sull'albero no è una casa snora sto facendo i piani sopra che è il più importante dai che gioco è facile ciao abbiamo iscriviti mamma che cazzeca iscriviti non so pensavo quello si era abitato alla casa si butta giù sì però non è quello dai non mi dare indizi e costruisci facile quando ci arriverò te lo dirò ti do un grande indizio guarda per farti indovinare questo è un indizio ho capito è un grosso indizio perché io potrei nascondermi la sotto quando vieni la nonna o hai capito era granny certo ho capito se metti un letto questa è la casa di granny del primo capitolo di granny dove ne abbiamo fatto due episodi no tre uno di scappare dalla macchina uno di scappare dalla porta e uno dove non siamo riusciti a scappare vi ricordate granny a questo punto dato che ci siamo già ve lo dico lo sapevo che con questo lo cazzecavi subito lava sa scrivere devo scrivere lei aveva scritto lava a me ok ragazzi sono tornato allora avevo messo un attimo pausa al video perché praticamente prima di fare il video che sto vedendo il film di cappè di cappè e praticamente avevo avevo lasciato la tv accesa e quindi me ne sono accorto sentendo e ho dovuto un attimo mettere pause avete capito ma come che ci frega perché poi mi scordo e coso capito più di altro che consumi la corrente inutilmente ma non l'ho spento ho messo pausa semplicemente al film non lo spendi se non lo stai vedendo perché dopo devo continuare qui dovremmo metterci un foglietto per scrivere lefty sauce che significa questa porta murata è un armadietto non ti ricordi che ci sono ancora gli armadietti ok 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 una scala la scala che ti porta al piano di sotto la scala andiamo visto? ovviamente devo sbagliare va bene la facciamo a due la scala però devo cercare di ricordarmi la mappa perché lo sai che è molto grande estetissima che? estetissima che vuol dire estetissima? grandissima estesa è estetissima è molto estetissima è estetissima sembra che c'è un estetista che gli fa la ceretta la mappa no guarda noi abbiamo costituito questo blocco qui penso che non ce la farai nel tempo dobbiamo farlo in due volte no pure in quattro secondo me forse pure qualche volta in più perché la casa è enorme eh vediamo che riusciamo a fare eh vediamo che riusciamo a fare eh vediamo che riusciamo a fare un seminterrato un seminterrato un seminterrato stai inventando dei termini tu che non esistono proprio al mondo io la farei più larga alla scala ma così deve essere vediamo di un gradino ma è una di un gradino non ti ricordi il gioco? no non mi ricordo io mi ricordo vabbè e allora fai la parete giustamente così boh ci hai tirato proprio in faccia e così deve essere la parete così così facciamo anche la porta con con l'indicatore guarda dove si entra e tu trovi qui il tavolino con la cosa che non si può vedere perché vuoi mettere un blocco in testa chiudi anche la scala dall'alto lato a questo punto ma cosa? mi chiedi anche la scala dall'alto lato no perché di questo dobbia fare una cosa è così cos'era questo rumore inquietante? era respirazione animale quindi non 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 guarda un po' che devo guardare? non sto capendo niente come sto capendo niente? è questo cos'era e stai facendo 3.000 stanza e si la casa di grani è così devi mettermi il blocco a te e poi metti la porta guarda cosa faccio no? ecco qua ok abbiamo altri 10 minuti guarda questa è la casa di grani che non ti farà capire nulla effettivamente è un lavoro attimo è molto complicato sì faccio finta che questo è il semi interrato perchè poi dobbiamo fare anche la cosa della macchina non ce la facciamo non mi fai capito quanto è grande la casa cioè dobbiamo fare addirittura i condotti però se abbiamo un consiglio quando cominci una stanza portalo a te perché poi non ti ricordi quello che stai facendo ma non mi ricordo mancano 9 minuti quasi 8 non si fa bene l'ansia sì allora raga finirle in tutta in ora non ce la facciamo facciamo un video di quattro ore cos'è lo finiamo adesso? no credo che in meno di un'ora la finiamo che cos'è il balcone? no sono altre istanze che ci sono nella casa non credo che questo te lo ricordi ma io non mi ricordo poco niente su questa casa ma veramente non ti ricorda noi abbiamo giocato poco a questo gioco ma ho giocato un sacco di volte e tu te lo ricordi di più io un po' di meno e perchè io ora mi ricordo un sacco di video di cremmi che faccio come stia? che faccio come stia? e io voglio ripiare ma che cos'è un pianeta c'ha gli anelli intorno ma no che stai dicendo ma questa è la stanza la stanza che sicuramente non te la ricordi dopo ti faccio vedere la mappa di granny ti faccio vedere che noi cosa abbiamo fatto anzi ti faccio vedere proprio il nostro video ti faccio vedere non vedo ora 13 minuti e 56 97 58 59 e 14 minuti tiriamo solo 6 guarda quanto vuole il tempo dovrebbe volare quando gioca maff naff e superiamo le notti così dovrebbe volare il tempo invece lì va lentissimo il tempo invece qui vola bisogna fare pure il basement e qui sarebbe la cantina si devi scavare una città esce dall'altro lato questo è un po' qua sotto esce dall'altro lato e il rumore perchè abbiamo fatto tutto buio e il rumore perchè abbiamo fatto tutto buio e la macchina come la fai? io l'ho fatta così vedi la macchina? si e poi la faccio in alto il rumore della rossa e poi così non perdiamo tempo ok 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 è una stanza ancora ma non ti ricordi il gioco? ma non ti ricordi il muro della casa? eh eh è questa della casa? eh sì ma non ti ricordi il muro della casa? eh ma sicuro è il muro esterno? sì sì allora non ci metti un altro blocco mettici dei cinti intorno al piano di suono aspetta sotto ci fa una riga con così e poi il terzo lo metti come se fosse tipo una stagionata capito? no non ho capito no no è sì la Siamo a 10 a 7 minuti. Stiamo facendo il tetto di questa stanza. Sono tutte grandi. Stiamo facendo il tetto di questa stanza. E ne mancano solo due. Stiamo facendo il tetto di questa stanza. In 20 minuti questo è un bel record. 18... No, sono 19. Stiamo facendo il tetto di questa stanza. Stiamo facendo il tetto di questa stanza. Oppure una cosa simile. Un altro armadio? No. Basta, ormai non gliene facciamo più, anche se ce ne sono tanti. Siamo già a 20 minuti. Vabbè, io direi di fare soltanto questo. E poi concludiamo. Facendo pure il culo mi devo ricordarlo. Io direi che siamo a buon punto. Dai possiamo completare qui? Sì. Nel prossimo video faremo il continuo. Aspetta. Fammi fare un attimo il bagno. Ok, concludiamo. Eh, la foto per la copertina. Io la facciamo qui. Ce l'avevo già pensato. Aspetta. Facciamo soltanto quest'ultima cosa. Dopo prendere una petrol plate. Così. E poi prendere la staccionata. Cosa si chiama? Come si chiama? La recensione. Guardate. Adesso mettiamo qualcosa che sarebbe il vaso. Guardate. Il vaso un po' vola però non fa niente. E ha fatto la copertina. Ok, ragazzi. Il video si occupa di qui. Mi raccomando, se vi è piaciuto metteteci un bel like. Ci vediamo al prossimo video dove faremo il continuo di questo. Ciao a tutti da Papi. E da Samuele. Ciao, ciao, ciao. Ciao alla prossima, ciao. Ciao.